22 settembre, Raimondo D'Inseo conquista il titolo di campione del mondo. Queste immagini ve lo mostrano a Venezia durante una delle prove della pool finale. Per Raimondo D'Inseo è questa una nuova grande affermazione e la riconferma di quel titolo che già aveva conquistato nel 1956 ad Affis Grande. Gli altri allori conquistati dal 35enne cavaliere di Foggio Merteto sono la medaglia d'oro nel Gran Premio di Salto e quella di Bronto nella prova squadra alle Olimpiadi di Roma. Per il capitano Raimondo D'Inseo è stato senz'altro l'anno più fruttoso della sua luminosa carriera. Grazie a tutti.